E niente, piatto pulito quasi. Qui abbiamo il nostro fantastico Walker Walter. Stamattina è riuscito ad arrivare su in cima insieme a me al mitico mortarone. E' stata dura, però ha avuto un carattere veramente amorevole. Qui è sempre la solita pausa, relax, quando arrivi dopo quasi due ore di salita infinita. A tratti ti dà quell'attimo di respiro, poi di nuovo ti massacra, sono un fradicio. Lui ha resistito veramente, non me l'aspettavo una cosa così. Grandissimo Walter. Un saluto a tutti. Scusate ma stavo mangiando, non potevo darmi redda. Bocconcini di cinghiale, bomboletta, una bulguria. Oggi concesso lo sgarro. Gli ho detto se ne voleva un pezzo. Io chiaramente Barretta, assolutamente nessun tipo di sgarro. Un saluto al team Peruffo, ciao Ricky, ciao Marcello, ciao Perry. Niente, domani faranno la Gran Fondo del Lago Maggiore, quindi chi farà il lungo se li avranno in su al mitarone, oppure il medio, quello più corto. Noi ci siamo fatti una passeggiata amatoriale oggi. Buon weekend! Buon weekend!